Aprile e Reta sono del sur d'Italia, potenza basilicata. Hai parenti a lontano insomma? Del lato di mio cognome Reta, hai alcuni parenti del pobo Senise. Un paese, un piccolo paese Senise. Ma hai nonni, zii? Qualche cosa no? No, vendrei al Stato primo in Italia. Cugini in Italia. Hai cugini? Sì. Senti, che cos'è per te venire in Italia a giocare a 24 anni? Poi hai giocato sempre in Uruguay finora, no? La verità è che è il sogno di qualche jugore uruguayo venire a giocare al futbol europeo, non che niente una liga tan importante come il futbol italiano. La verità è che per tutti i giochi del Suomercano è un sogno venire a Europa e giocare nel calcio italiano. Il calcino tradurre a lui, allora dai. È un sogno venire in Europa a giocare al calcio italiano. Hai cercato qualche altra squadra italiana? Trucco di chi è in Italia? E' un dottore di due anni fa. Due anni fa, due anni fa. Chi è il padre? No, no, no. Era il padre. Ah, il padre, sì. Gustavo, scuse. L'Uuguay hai fatto solo un gol in quattro stagioni? Questo perché hai delle attitudini diciamo più difensive oppure in caso? Che sei in quattro stagioni? Tu e Guido mi dice anche io. Parlo di rumbo di fascia. Non è che faccia... No, no. Nel senso, giocando in fondo facciamo magari di 3, 5 e 2. Facendo rumbo di fascia magari più uno che... Fai il pendolo, non so. Si, il pendolo fa... È come Polenta magari. Polenta nella sua carriera l'anno scorso non ha segnato mai. Cioè, non è che un trequartista che magari deve andare a fare il gol o dare la passaggio con lui a un giocatore di fascia. Non è il segrestiero. Cioè, non è la sua specialità. La sua specialità è la corsa, il giocare, cioè di giocare, di fare il gioco. Non è l'erufolo la sua caratteristica. Non è l'attaccante che dice che deve fare il gol. Gustavo, hai un modello come calciatore? Un modello che ti ispiri, giocando a sinistra? Tengo varii modelli che non si asemexano a quel che è il mio gioco, però che tomo molte cose di loro, come sono Enzo Francesco e Zidane, la mentalità che tiene nel suo temperamento e la táctica a la hora di giocare. Sono varii modelli che non si asimilano il gioco suo, però... ... 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